Benvenuti in questo canale, possiamo esercitare insieme la nostra fede e speranza, affinché la Divina Provvidenza e i miracoli possano manifestarsi nelle vostre vite. Cara Santa Rosalia da Palermo, in questa umile preghiera ti chiediamo di effondere sulla terra le tue benedizioni. Imploriamo guarigioni miracolose, affinché i malati trovino sollievo e ristoro nella tua potenza divina. Possa la tua luce illuminare il cammino di coloro che si sono perduti, portando loro speranza e guida. Chiediamo miracoli che trasformino la vita, che i cuori spezzati siano guariti e che i sogni perduti siano restaurati. La tua Divina Provvidenza raggiunga tutti coloro che sono nel bisogno, venendo incontro ai loro bisogni fisici e spirituali. Possano la pace e l'armonia instaurarsi in ogni angolo della terra, guidati dalla tua intercessione. Santa Rosalia di Palermo, prega per noi ed esaudisci le nostre suppliche. Amin.